Oggi ti farò vedere come si prepara uno degli spritz più bevuti dagli italiani, l'Aperol Spritz. All'interno abbiamo Aperol Prosecco e soda. Possiamo prepararlo in un calice da vino. Riempiamo il bicchiere di ghiaccio e andiamo a riempirlo per metà di Prosecco. Dopodiché messeremo un'uncia e mezza di Aperol e andremo a fare un top con la soda. Possiamo anche dare una mescolata. E come decorazione una fettina di arancia. Aperol Aperol Aperol